Inaugurato oggi all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze, il CoreLab, realtà ad altissima automazione, permetterà di snellire i tempi degli esami di laboratorio, consentendo a cascata una riduzione consistente dei tempi di permanenza in ospedale dei bambini e delle loro famiglie. I tempi di risposta degli esami non urgenti, che prima erano di circa 10 ore, si abbattono a meno di un'ora. Il progetto nasce grazie a una complessa gara regionale di livello europeo che ha individuato l'azienda Roche Diagnostic come soggetto realizzatore. Il nuovo laboratorio si compone di più piattaforme strumentali che dialogano tra di loro grazie a un sistema informatico e che sono collegate fisicamente da un vero e proprio sistema di binari dove viaggiano le provette da analizzare. Uno dei grandi vantaggi di questo nuovo sistema è che è stata completamente automatizzata tutta la parte preanalitica del processo, cioè quella che è più a rischio di errore umano. L'efficientamento che questo laboratorio consente avrà ricadute positive su tutto l'ospedale, ha detto il direttore generale Alberto Zanobini, e questa è una conquista più che mai preziosa di questi tempi. Il Covid ci ha ricordato quanto sia importante ridurre i tempi di permanenza in ospedale nelle sue sale di attesa.